Ok dai, ci stiamo. Tutto pronto per registrare. Non stai pensare alla cosa di ieri, che ci stava quella, che è quella di lei, che mi ha bussato la ragazza. Che cazzo vuoi? Che stanno tutti? No, che stanno tutti? Che vuol dire? Insurtire ragazze così? Cazzo c'è? Se uno è brutta, è oggettivo. Che vuol dire? Se te sei un coglione, non è che te lo venga a dire perché sei un coglione. Allora, ora comincia a staccarlo. No, staccarlo il cazzo, la ragazza mia, cioè che vuol dire? Ho capito, ma se la bussero è una bussero. Ho capito, se sei un coglione, sei un coglione. Cioè, vuol dire niente. Per ogni monto ti incazzavi sta coglione. Perché? È normale, come se dico quel mongoloide di tu zio. Cioè, ho capito, ma lì mi stai assurta a me zio. La ragazza tu è una bussero, è oggettiva. Ma se tu zio è oggettivamente mongoloide. Mi zio c'è mongoloide, oggettivamente tu lo conosci? Ma per me oggettivamente non è brutta la mia ragazza, può piacere come non può piacere, cioè è diversa la cosa. Per me sei un coglione. Per me sei un coglione di te, che cazzo vuol dire? Prima che il video cominci vi ricordiamo che sabato 9 e domenica 10 saremo presenti all'Itadjub. Ci saranno pure le nostre magliette, quindi se vediamo la bella. Allora ragazzi, dopo l'intro più brutta del sequel, volevamo fare una cosa seria ma non ci siamo riusciti, ci veniva da ride. Niente, questo per fare cosa? Per introdurre Mortal Kombat. Boboom! Su nostro canale. Mamma mia che spettacolo. Speriamo che vi piace, oggi facciamo la partita io contro lui. Ovviamente ragazzi, noi l'abbiamo appena preso, quindi, cioè, l'ultimo Mortal Kombat che ho giocato era da PlayStation 1 io. Quindi non mi ricordo più niente, lui pure penso molto poco, quindi quello che vedrete il livello sarà bassissimo. Sì, faremo veramente schifo, peggio di Johnny Creek contro Ron che non ha mai toccato. Non ci entrerà neanche una combo, penso. Quindi, eccomi qua, lui prende Scorpion, io prendo Milina e, come dicevamo, non ci entrerà neanche una combo, non faremo schifo, faremo tutto quanto, quindi prendete la ride, insomma. E io che sto a dei fuoco. Ovviamente le cose da uomini si risolvono in questo modo, con Mortal Kombat, perché noi da quelli uomini ci diamo le botte virtuali. No alla violenza, sì, alla violenza sulla PlayStation. Sì, alle buste di miscio. No alla violenza sulle toglie. Dai, il boss è emozionato perché stavo... Mamma mia. Incredibile. Che cazzo è il muozzo vuoto? Bam, 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 bam. Rutter il cazzo, poi ti faccio rutter il cazzo. Boom, lo manda a prendere il latte. Non parlo, fai il culo. Ancora. Incredibile. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. E ancora, di nuovo. Vabbè, non ho giocato. Incredibile. Scorpion regata. Perché in questo round non ho giocato. Fermatelo, fermatelo. Bam, bam. Oh, in aria lo prende. Raggi X per lei. Per Milena. Non so neanche che cosa è questa. Un combo di merda. Sbomb. Mamma mia, ho fatto male. Ho fatto male. Scoppiamo la gialle. No. No, no, che cazzo. Boom, boom. No. Ottaccia tua. Se facevo stare l'altro di morto. Lo prende e lo perfora. Mamma mia. Oddio, oddio, oddio. Come cazzo si potenzia la roba? Boom. Ma che è sta storia? T'ho rotto. No, no, no. Vattene. 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 Che cazzo fai? Malena. Cretino. Wins. Tra una combo. Ma non mi entra mai sta combo. Che palle. Vattene. Che cazzo. Vattene veramente vasti a caso. Guardalo. Tutti i zompi. Tutti i zompi. Oh, yaf. Ma perché zomp a sto stronzo? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mamma mia, uscirà. Me li naif. Me lo sento. No, no, no. Oh. Prococane. Oddio, è finito. No, vabbè, non posso. Fagli accedere. No, perché non lo fa? Non sa fa la patata. Perché? Ma che cazzo? Vabbè, comunque, raga, Scorpion è troppo forte. È un adegnato canguro. Allora, prendiamo personaggi casuali. Un talebio. Ma che cazzo so? Ma che è sta gente, raga? Vabbè, mappa casuale. Casuale. Causale. Causale. Tutto molto bello. Cioè, sono due donne. Però quella mia non sa che è forte, carcola. Eh, la madonna. Ma che cazzo? Ma che vede la presa sua, com'è? E fammela fa. No, non per ca. Eh, eh, eh. Eccola. I can't smash you. Bam. Oddio, gliene fa male col ventaglio. Ma che cazzo funziona questa? Io non l'ho proprio capito. Mamma mia. Ma io mi chiedo perché zompano dopo che voglio... Fa la cazzo di... Madonna mia. Che cazzo di mongoloide la mia. Guarda. Fa sempre la stessa cosa. Guarda. Non riesce a far... Qualcos'altro. Fai qualcos'altro. Mamma mia. Oh, ma questa qui fa male con questi pugni qua. E mori male. E mechitana vince. Milena, sottotit. Vi è qua. Ci vediamo dopo? No. Perché mi stai seguendo? Vaffanculo. Vaffanculo a te. Vaffanculo ho detto. Ho detto che ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Mamma mia, le combo che fanno... Guarda che puttannone da battaglia. Oh, ecco ho trovato il personaggio mio. Oh, numero. Perché zompano? Ma chi gli ha chiesto di zompano? Vaffanculo un po'. Bam, bam, bam. Spara. Fai quello che cazzo ti pare. Che cazzo sta a fare? Ma che dà garcia all'aria? Guardala. No, regà. Non siamo proprio capace. Cioè, veramente... Oh, attenzione. Bam. Non si può farà sta pigna. Jackie Boris vince. Comunque, questi personaggi di me non li abbiamo mai usati. Unready. Fermatelo. Oddio. Ma che era? Che figata. Boh. Comunque, ho amparato una mossa. Fermateve. Fermateve. Tenta la presa. E la fa, culo. Oddio. Ma che cazzo è sto cosa? Sono fuocato di merda. Ma che sta a ballare? Mazzurka? Stai zitto. Invece che distronzate, per favore. No, no, no. Lo usico, eh. Damo che culo. No. Che fig... No, lo fa fatali. Comunque, 2 a 0. Eh? Ma guarda, mi risolverò i domini. Guarda che fine di merda. Però, mi sono fatto che ragazzo farà un busto del viscio. Vabbè, dai. Non c'ho l'ovine. Sti cazzi. Vabbè, ragazzi. L'abbiamo risolta così. Lui vince a Mortal Kombat. Io mi dovrò allenare. Perché veramente, cioè, è un giorno che ce l'abbiamo. Quindi, fa veramente schifo il nostro. Faccio morire. E quindi, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, lasciamo 5.000 like. Noi ci mettiamo, come sempre, al prossimo video. E niente. Bella. Ciao.